Centrale Fotografia non si ferma e si prosegue sabato con una importante inaugurazione, un'anteprima. Abbiamo la possibilità di raccontare l'ultimo progetto didattico che abbiamo vissuto in presenza con oltre 25 fotografi. Questo progetto lo presentiamo mostrando il prodotto di tre pubblicazioni dedicate ai fiumi e poi avremo anche la possibilità di andare a vedere l'installazione multimediale allo spazio Pagani di Palazzo Bracci Pagani. L'evento di sabato dove si svolgerà e a che ora? L'evento di sabato alle 17 saremo al Palazzo Montevecchio, al primo piano, nella sede dell'Associazione Fabbrica Urbana. Presenteremo tre libri davvero interessanti, uno dedicato al fiume Marecchia con Marco Vincenzi e il fotografo Gabriele Giardi, poi un altro libro dedicato ai fiumi Lombardi e verrà da Milano appunto Danilo Bazzani. E poi l'ultimo libro è dedicato al fiume Metauro e fa parte appunto dell'ultimo progetto che abbiamo fatto. Ci sarà un'anteprima del geografo letterario Massimo Bini che presenterà la pubblicazione che con la Regione Marche cercheremo di preparare per il prossimo anno. Siete a lavoro anche per Centrale Festival? Sì, abbiamo aperto un open call dal 10 gennaio e stanno arrivando candidature da diverse parti del mondo. In più Centrale Festival recentemente è stata contattata a Roma per una mostra dedicata a Emanuele e Giuseppe Cavalli e poi abbiamo anche il frutto di una performance che avevamo presentato lo scorso anno a Centrale Festival di Marilisa Cosello alla Galleria di Bologna Studio G7.